cari pesci mercoledì giovedì e venerdì mattina la luna sarà al vostro fianco anche per mitigare un po gli effetti sfigo grigi degli altri pianeti quindi in queste giornate avrete risorse emotive sufficienti per portare a compimento a tutti gli impegni che avete nella to do list quotidiana che vi possono anche come dire aprire nuove strade che si renderanno un po più evidenti fra qualche settimana siate fiduciosi perché comunque rimanete uno dei segni maggiormente favoriti dello zodiaco avete zebedei granitici un fascino che conquista una determinazione mai vista questa settimana cercate di non rompere gli zebedei all'universo mondo e l'universo mondo non li romperà a voi manco fornicando